E' una manifestazione festivalistica, quindi compone un mosaico di quella che una volta era una città di festival ma che continua tutto sommato ad essere nonostante i bilanci non siano più quelli di una volta. E' importante perché mette un punto riguardo al discorso cinematografico e come si diceva prima in conferenza stampa anticipando l'altra importante rassegna di festival di cinema del sé che sarà ad inizio ottobre dopo essere stata presentata al festival del cinema di Venezia. Quindi si tratta di film di qualità in cui si mischia il documentario con la ricerca di giovani generazioni di videomaker o di registi. Quest'anno verranno presentati anche su iniziativa di Giulia Longhini, verranno presentati dei cortometraggi fatti su moste d'arte contemporanea a Palazzo Tè. Quindi un po' si mischiano gli omaggi a Mazzacurati. E' una sorta di festival in piccolo in cui non è necessariamente la prima in assoluto ad farla da padrone ma è una diversificazione di offerta, in questo caso si può dire assolutamente culturale. Una manifestazione di grande rilievo per il nostro territorio, per la città di Mantua e che anima l'estate mantovana in modo molto significativo. conferma quindi che Mantua è terra di cinema, la terra di Zavattini, di Monicelli ma terra anche dove studiosi di cinema propongono iniziative per comprendere il cinema comprendere la storia del cinema e quindi offrire un'alternativa culturale rispetto a quella che è la proposta del cinema delle grandi sale. Ecco quindi che con orgoglio particolare vediamo che il conservatorio Campiani che è la struttura della provincia messa acquisita grazie a questo progetto di ristrutturazione che non è soltanto materiale ma che è anche un progetto culturale vede anche con questa manifestazione un utilizzo molto molto significativo e importante. Il Chiostro si pesta particolarmente così come spazio espositivo, come luogo dove poter godere di proiezioni fantastiche restaurate, risistemate e quindi anche di partecipare a dibattiti. Il mio applauso a questa associazione di studiosi che con grande passione, con grande competenza danno questo alla nostra comunità mantovana. Abbiamo ovviamente il concorso con 14 opere prime di cui 7 inedite qui a Mantova poi abbiamo la retrospettiva quest'anno dedicata a Carlo Mazzacurati sarà quasi diciamo integrale, è un regista scomparso appunto da pochi mesi e poi abbiamo delle anteprime molto particolari quest'anno due anteprime straniere però una diciamo che si ricollega al festival perché è un'opera prima che ha vinto al festival di Cannes la Camera d'Or che si chiama Party Girl e concludiamo con il nuovo film di Ken Loach sempre presentato a Cannes che si chiama Jimmy's Hall. Ci sono due ambienti al chiuso e se piove è un bel andare perché l'anno scorso sono stati funestati dal maltempo, tre giorni su sei e quindi avere una sala in più all'interno, piena disponibilità di una sala all'interno ci permette di fare della variazione anche al momento abbiamo già predisposto un piano B, diciamo B minuscolo non proprio un piano B però le proiezioni sono superiori a quelle dell'anno scorso perché parliamo di questi numeri 44-45 film con all'incirca 55 proiezioni considerando le repliche quindi davvero tanti film